secondo te Age Styles diventerà campione? ma guarda io non escludo diciamo sicuramente un ulteriore titolo un ulteriore regno titolato di AJ tra l'altro nella intro dell'ultima puntata di Smackdown dove faccia vedere Roman Reigns quanti personaggi aveva superato in termini di giorni, uno degli ultimi il regno più lungo di AJ Styles era di poco sotto i 300 giorni se non erro è sicuramente un atleta validissimo dal mio punto di vista sia in ring che anche nel parlato e non escludo che nel futuro possa avere un'altra chance, nell'immediato anche per come sta andando la narrativa tra Seth Rollins e AJ tendo ad escluderlo però sì perché no diciamo non ho elementi per poter dire no secondo me certamente non accadrà io sono meno ottimista rispetto a te per due motivi il primo in parte l'hai già rasato tu hai già passato il rasoio però è nel roster in cui c'è Roman Reigns quindi Roman quella cintura deve perderla la perderà con AJ è molto dubitativo quanto ancora resterà campione finché c'è Roman ebbè c'è una sorta di paralisi di stasi attorno a quella cintura il secondo motivo invece deriva dalle dichiarazioni di AJ Styles che in alcune interviste ha detto che questo dovrebbe essere il suo ultimo contratto con la WWE certo ci può ripensare in tanti lo hanno fatto in passato hanno detto smetto poi sono andati avanti oppure hanno ripreso però in generale ecco se dovesse tenere fede a questo proposito il cerchio dei giorni si restringe sempre di più quindi per tali motivi senza ovviamente sminuire l'importanza di AJ Styles e le sue capacità credo che sia più no che sì almeno per quanto mi riguarda in questo esatto momento poi se magari fra dieci giorni salta fuori che ha rinnovato per altri tre anni è chiaro che devo rivedere un attimo le informazioni dalle quali sono partito per elaborare la risposta nel frattempo Simon Diref 27 mesi di abbonamento con Prime thank you grazie mille grazie mille grazie davvero allora andiamo avanti con le domande beh più che domande questa è una una frase che evidenzia qualcosa di strano in effetti Triple H dopo il draft sembrava dover rimettere a posto le cose ma vigia ancora una grande anarchia e parecchio disordine all'interno della narrativa WWE Baron Corbin che sfida il campione di NXT e poi tenta di qualificarsi per il Money in the Bank Seth Rollins che il suo sfidante il primo con cui difende la cintura non salta fuori realmente da un'interazione a Raw ma viene annunciato praticamente sul web e poi a SmackDown la campionessa di Raw che sta nello show blu e la campionessa di SmackDown che sta a Raw ma ci sono tanti tilt per ora in casa WWE tu Bracchias come li vedi in generale cioè possiamo dire vabbè ci sta diamogli tempo oppure sono il segnale se non di un malessere quanto meno di un po' di disorganizzazione ma guarda Mick nonostante diciamo da buon ingegnere le cose illogiche mi diano fastidio la community lo sa diciamo in questa fase do come dire il beneficio del dubbio nel senso che la percepisco come una fase di assestamento post draft e che non potevano magari mettere troppi tasselli a posto insieme nel senso che ad esempio ho fatto l'esempio delle cinture femminili è chiaro che in questo momento diciamo stanno un po' facendo finta che non ci sia questo diciamo questo questo come dire che una campionessa di Raw ha la cintura di Smackdown questo contraddittorio diciamo questo ad esempio perché secondo me tra non molto vedremo un restyling anche di quelle cinture come già c'è stato per diverse cinture WWE quindi secondo me prima diciamo di dire con fermezza che magari c'è poca chiarezza o che magari ci sia disorganizzazione tenderei ad aspettare diciamo un altro po' ora quanto però però non ha tutti i torti Chris Sayan scusa Cameron Grimes batte Baron Corbin e non ha un match di qualificazione invece Corbin sì e addirittura c'è una shot teorica ce l'avrà a NXT e le night perde da mesi improvvisamente può qualificare cioè c'è qualcosa che non va in questa narrativa di Triple H o dobbiamo continuamente fingere che perché Triple H non c'è più Miss Man allora è tutto così più bello sì 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 diciamo io il ragionamento che ti facevo prima era più da un punto di vista come ti voglio dire organizzativo poi chiaramente dal punto di vista narrativo ci sono dei cortocircuiti logici ad esempio anche il match di qualificazione femminile ad esempio Michin contro Bailey perché Michin dovrebbe essere all'interno del match di qualificazione cosa ha fatto che non la vedevamo da mesi ad esempio quindi è chiaro che ci sono dei cortocircuiti diciamoci la verità alla fine questi ci sono anche in epoca Vince diciamo ci sono stati poi probabilmente adesso sono un po' più diciamo visibili però ecco diciamo alla fine quando in questi casi qui vedo questi match di qualificazione dove fondamentalmente bene o male già sappiamo annusiamo chi andrà a fare il money in the bank match alla fine l'occhio io lo chiudo sebbene è pur vero quello che dici tu teoricamente i match di qualificazione sono d'accordissimo con te i match di qualificazione dovrebbero essere match tra top lottatori perché potenzialmente tu gli stai dando la possibilità di guadagnarsi una shot titolata che in realtà è una shot titolata abbandaggiata perché sappiamo che quando si va a incassare potenzialmente puoi vincere il titolo in pochi secondi su questo sono d'accordo però poi alla fine dobbiamo vedere la realtà dei fatti insomma beh insomma buttato dentro in qualificazione Montesford che non è un atleta singolo poi chi è che ci aveva messo Shinsuke Nakamura con Demis aiutatemi con la memoria ma anche ad esempio c'è l'incontro di qualificazione Butch contro appunto Baron Corbin cioè per esempio in questo match di qualificazione vedi un Baron Corbin che in questo momento ha un piede in due scarpe tra l'altro credo che nelle puntate scorse se non erro abbia fatto la prima vittoria dopo non so quante sconfitte Butch praticamente in singolo si può dire che quasi non abbia mai lottato o comunque diciamo non è che chissà quale rappresentanza abbia però che dobbiamo fare? Non so allora innanzitutto ringrazio Dimpo4 o Dimpo4 thank you grazie mille grazie davvero per l'aver rinnovato l'abbonamento per il sesto mese e anche parrucco dagli aziendalisti 26 mesi di abbonamento grazie davvero grazie grazie mille potremmo superare la prima stazione mancano 4 minuti e il 7% se avete un abbonamento o qualche biz che vi avanza detto questo no secondo me dovremmo essere intransigenti e desiderare un prodotto migliore assolutamente perché se no abbiamo sempre una scusante una giustificazione allora tanto valeva tenerci la dirigenza di prima secondo me questa costruzione dal punto di vista delle qualificazioni del money in the bank è assolutamente deficitaria probabilmente la peggiore che io ricordi negli ultimi anni tant'è che appoggio sicuramente l'opinione di chi sta scrivendo che per ora è un money in the bank che manca di appeal perché ci sono tanti atleti secondari o parzialmente ai margini e per qualificarsi per un oggetto che ti spiana la strada o potenzialmente può farlo per una cintura praticamente i super top non stanno scendendo in campo come se valga poco come se debbano esserci lesie Evans che non vediamo da mesi Michin in campo femminile o altri in campo maschile che sono molto molto lontani dal poter essere un pericolo per Roman Reigns o per Seth Rollins quindi non lo so io sono un po' deluso dico la verità cioè le qualificazioni sono il primo passo per arrivare al grande match tutti dovrebbero voler lottare per la valigetta e se ci sono dei risultati anche recenti bisogna tenerne conto se no rimischiamo ogni volta le carte e i risultati non contano Natalia perde in maniera pesante e netta contro Ria Ripley in questo giro non si gioca la qualificazione al Money in the Bank salta un turno ci riproverà l'anno prossimo se no se sei sempre ad un match casuale dal diventare force contender quasi quasi non vale più la pena dedicare così tanto tempo a seguire le vicende settimanali perché non c'è una una coperta che ti dà un minimo di garanzia che quello che vedi oggi valga domani sì Mick sono perfettamente d'accordo io spesso ho detto che non solo per i miei gusti ma anche per per il simbolo che rappresenta credo che Morning Bank sia subito dietro la Royal Rumble e Summer Slam perché così come magari la Royal Rumble l'ha impastato l'Elimination Chamber ti dava una possibilità qui come dicevi anche tu dava una possibilità molto più avvantaggiata e sì la ragione vuole che ci dovrebbero essere tutti appunto atleti atleti top chiaramente ma anche ma anche no scusami però tornando a prima Cameron Grimes ha battuto Corbin ci va Cameron Grimes a fare la qualificazione cioè che senso ha avere uno che vedo perdere e umiliato per tre settimane di fila e poi va a fare la qualificazione al Morning Bank e chi l'ha battuto no cioè capisci è questo che io vorrei evitare poi magari Corbin entrerà vincerà ci sarà una storia speciale su di lui allora rivaluterò il tutto però così non non mi dà quello stimolo non mi fa scoccare quella scintilla lo so Mick diciamo io credo un poco a questa un po' a questa cosa che ha scritto il dottore la condivido in parte così come c'era un altro utente precedentemente che scriveva ho l'impressione che Triple H voglia fare un po' contenti tutti tra l'altro con anche l'estensione del roster che ha comportato la sua gestione diciamo il sospetto mi viene su questo in particolare su questo secondo punto abbiamo sfiorato l'hypetrain di poco ma qui mi rivolgo a chi guarda i video su youtube se avete un abbonamento Amazon Prime voi che siete qua su Twitch già lo sapete c'è all'interno di quello che pagate la possibilità di sostenere un creator su Twitch gratuitamente ogni mese cioè state già pagando quell'opzione quindi nel caso associate il vostro abbonamento Amazon Prime a Twitch perché sono della stessa azienda si fa in due clic e poi legatelo a questo profilo a voi non costa niente state praticamente rinunciando ad un vantaggio che avete e ogni associazione a questo canale ci permette di guadagnare tipo un dollaro e 40 una cosa così per potenziare la nostra strumentazione e per farci venire sempre più voglia di regalarvi queste dirette quindi mi raccomando se avete Amazon Prime l'associazione è rapidissima sono proprio due clic io volevo profilare anche questa opinione perché c'è una pluralità di visione e quindi il nostro amico dice io non sono molto d'accordo paradossalmente sono più adatti questi nomi secondari come vincitori del Money in the Bank alla fine la valigetta serve proprio a fare un passo in avanti a quei personaggi lì ed è una visione tutto sommato interessante e non la ritengo neanche almeno per il mio punto di vista per la mia opinione così sbagliata ma io vorrei vedere questi personaggi secondari che arrivano alla qualificazione con un minimo di percorso continuativo e non che abbiano un match che li può portare a vincere la valigetta che salta fuori dal nulla malgrado abbiano una striscia perdente anche pesante sì alla fine diciamo tutte e due le versioni sono ragionevoli la differenza sta nel come dire nell'approccio chiamiamolo così al problema perché tu Michele chiaramente parti dici so qual è l'obiettivo cioè il contratto che mi dà l'opportunità di vincere a qualsiasi momento quindi è un'ottima chance e dovrebbero meritarla coloro i quali si sono guadagnati la pagnotta dall'altra parte si dice ok l'obiettivo è questo cogliamo l'occasione per lanciare chi magari in questo momento non sta riscuotendo chissà quale è successo alla fine sono diametralmente oppostimi modi di vedere però secondo me ci sono entrambi forse la logica diciamo vorrebbe più in un certo senso la tua la logica narrativa si parla diciamo il tuo approccio una logica magari commerciale o di lancio di un nuovo personaggio probabilmente la seconda sì però io insisto e poi cambiamo argomento io vedo un atleta che perde per un mese di fila che viene deriso sputtanato in tutti i modi e poi lui e non chi lo ha battuto può vincere la valigetta del Money in the Bank perché ha una delle rare occasioni perché sono poche di qualificarsi perché? perché? è lì che bisogna lavorare e a me sta anche bene che ci siano lottatori di secondo piano perché grazie al Money in the Bank crei nuovi nomi lo hanno fatto soprattutto nella divisione femminile perché la valigetta scotta e negli ultimi anni o si è tramutata nella cintura oppure hai trovato le Nicky Ash di turno o le Carmella di turno che insomma col Money in the Bank si sono messe in vetrina hanno avuto delle occasioni hanno provato a salire di livello però in generale mi piacerebbe che Triple H ponesse molta più attenzione su questa dettagliatura cosa che evidentemente non fa perché come qualcuno ha scritto c'è tanta roba buona in cima alla card c'è Brock Lesnar c'è Roman Reigns c'è Cody Rhodes c'è Seth Rollins e allora vabbè passerà sotto silenzio però visto che qua siamo dei malmostosi siamo dei vecchi che hanno le unghie che graffiano ancora noi no caro Triple H non te la facciamo passare e sei fortunato che non ho qua né martelloni né troni se no arrivavo a rompere il trono col martellone e finivo anch'io nel main event di Wrestlemania tiè vabbè vabbè allora vediamo qualche altra domanda ce ne sono tante sul titolo di Roman Reigns allora facciamo un po' te risposta rapido qual è il titolo più bello perché il resto della domanda non è molto chiaro qual è il più bello cioè è questa di Roman Reigns che ormai sostituisce le altre due suppongo o è la cintura di Seth Rollins il titolo di campione del mondo dei pesi massimi ma guarda Michele credo da un'interpretazione che la seconda domanda intendesse dire come sarebbe meglio definirli cioè qual è il modo più bello per definirli cioè tipo il titolo World Heavyweight Champion o WW Universal Championship o Universal Championship una roba del genere credo che volesse dire comunque però la cintura è in italiano altre due sono in inglese cioè io non la ricifro andiamo a vedere qual è il più bello dai facciamo un testa testa guarda io ho sicuramente bisogno di vederle più di una volta perché ero un po' scettico su quello di Seth però poi mi sta piacendo questo qui quando l'hanno quando l'hanno svelato mi è sembrato c'è questa contrapposizione nero oro che secondo me va sempre gestita particolarmente in modo attento altrimenti è scena cafonata però mi sembra un titolo abbastanza pomposo soprattutto alla cinta di Rollins scusami di Roman va detto che è un accostamento di colori che a me piace molto quindi questa qui di Roman mi piace di più sono due filosofie diverse questa di Roman come hai detto tu è molto scenografica però ricorda sempre quel look un po' giocattoloso delle due corone che va a sostituire o almeno così sembra mettiamo sempre un asterisco l'altra corona quella di Rollins se avete seguito un video che ho pubblicato su YouTube sul canale Wrestling News e Rumors ha una storia cioè la cintura racconta delle cose ci sono tre leoni che sono il simbolo della famiglia McMahon c'è un'aquila che ricorda una storica cintura della WWE c'è una corona che ricorda il campione più longevo della federazione Bruno San Martino ci sono 60 diamanti a significare i 60 anni di vita della WWE quando la cintura è stata forgiata e introdotta quindi tra le due preferisco la prima non facendo un distinguo cioè quest'ultima che ho citato quella di Seth Rollins sul pregio sul valore o sull'estetica ma semplicemente su questi abbellimenti su questi significati aggiuntivi che in quella corona lì riesco a ravvisare mentre quella di Roman è fighissima però non ha inserita al suo interno magari c'è non ce l'hanno ancora spiegata tutta questa epopea storica che invece quell'altra può vantare allora così abbiamo risposto anche ad Aleber che ci vedeva cosa ne pensavamo di questo nuovo titolo di Roman Reigns quando perderà la cintura qui rispondo io rapidamente non sarà sostituita da un'altra corona questa credo che sia fatta per restare almeno per un po' quindi avremo questa e quella di Seth Rollins che è stata appena assegnata a Night of Champions quindi avremo queste due corone ripeto salvo stravolgimenti della WWE visto che possono sempre cambiare le carte in tavola ora io questa domanda Alfio non so rispondere cioè contro chi potrebbe essere usata la valigetta maschile non abbiamo ancora il pool dei partecipanti però tu vedi un campione più adatto dell'altro per andare contro con la valigetta sta fervorestando che uno che vince il Money in the Bank poi ha praticamente un anno per poter incassare non è che deve farlo subito quindi i campioni possono anche variare ma guarda come tu hai detto credo sia al momento in questo momento storico e narrativo una domanda da un milione di dollari perché da una parte c'hai Roman che è mischiato con questa questione familiare molto una situazione molto problematica è fresca che insomma si è concretizzata nel main event nel pay per view nell'ultimo pay per view nell'ultima puntata di Smackdown dall'altra parte è un campione praticamente super over Seth Rollins è super fresco perché ha vinto praticamente la cintura un paio di settimane fa quindi in questo momento storico mi verrebbe veramente non saprei cosa dirti se per l'uno per l'altro al momento credo sia prematuro credo sia prematuro allora se le cinture sono state unificate sono state eliminate entrambe e c'è questa qua nuova che stai vedendo ora sollevata da Roman Reigns in foto che è l'interpretazione che in America sta andando per la maggiore quindi le altre due vanno a riposo e adesso c'è questa qua e quindi non è che una delle altre va in pensione e una sopravvive Roman Reigns anche nelle foto che ha pubblicato poi alla fine della puntata di SmackDown sui social aveva sempre solo questa nuova cintura che dovrebbe avere quindi un lignaggio diciamo in eredità diretta rispetto al titolo WB al titolo universale che erano prima in suo possesso per quanto riguarda Money in the Bank tornando al quesito originale aspettiamo un attimo di sicuro la valigetta potrebbe fare molto la differenza per attaccare Roman Reigns perché quando ce l'aveva Austin Theory non ha potuto farlo la storia era c'ha 20.000 alleati anche se arrivo e provo ad incassare mi imperiscono di batterlo fanno scattare una squalifica mi attaccano alle spalle dell'arbitro quindi devo trovare un piano differente per avvantaggiarmi di questo contratto garantito ora invece nella bloodline c'è maretta c'è confusione ci sono degli schieramenti quindi al momento se venisse assegnata oggi potrebbe essere veramente l'arma decisiva per far cadere il capo tribù però c'è talmente tanto ancora da scoprire ad esempio chi concorrerà per vincerla che è impossibile dire qualcosa di più su quanto abbiamo già enunciato non so dirvi quale albo d'oro va avanti ragazzi wwe sceglierà con calma io presumo che possano proseguire con quello universale visto che roman ha il record su quello e sta arrivando anche a superare pedro morales mancano credo una ventina di giorni anche di meno però non è che gli interessi molto al momento la federazione è più interessata a dire abbiamo un nuovo primo qualcosa abbiamo Seth Rollins un nuovo primo campione del mondo dei pesi massimi poi però magari sui social lui o altri legati alla wb o la wb stessa tentano in qualche modo di ricollegare quel lineaggio con quelli precedenti anche perché c'è un'assonanza di nomi ma in realtà quel l'ascito dovrebbe già far parte della cintura di roman quindi non fatevi questi problemi so che magari ci tenete però davide lui almeno nella gestione di triple h al momento questo è una questione questa è una questione molto molto distante e vabbè poi c'è anche Seth Rollins che sia un nuovo campione e con la valigetta potrebbe trovare un nemico capace di impensierirlo e qui torniamo al problema di prima abbiamo due megacampioni due uomini immagini due filosofie anche diverse di wrestling e Christian infila ulteriormente il coltello nella ferita cioè servirebbero nomi più altisonnanti lì pronti a vincere la valigetta come Drew McIntyre allora veniamone a una anche voi chat e voi che seguite su youtube indifferita siete convinti di questo? il pool dei partecipanti che si preannuncia è apparentemente scarso posto che sono quasi tutti specialisti nel prendersi voli cadere fare cose spettacolari quindi il match potrebbe essere molto bello oppure no comunque vi sta gasando siete contenti e quello che sta accadendo vi piace sono curioso scrivete diteci la vostra beh noi abbiamo già abbastanza raccontato la nostra presa di posizione santo sesco bar 39 le night 41 beh però jdvv è vero hanno un'età molto avanzata rispetto ai canoni di una volta ma nei roster principali si sono visti poco sono ancora praticamente vergini le night ha avuto poche rivalità santo sesco bar idem quindi dal visuale dell'invecchiamento visivo sono freschi per la wwe e tra l'altro ne approfitto poi chiediamo a brachias se si allinea a questa tua critica o no tra l'altro una direttiva da wwe data ai telecronisti che noi in italia non sempre abbiamo rispettato devo dire la verità per motivi che posso anche spiegarvi perché non l'abbiamo spesso rispettata a nxt dove loro stessi la vanno a infrangere è quella di non dire durante le telecronache l'età dei wrestler quindi una cosa che wb non vuole ma questa è abbastanza recente è che mentre tu telecronachi non devi dire eh santo sesco bar 40 anni santo sesco bar ha un'età indefinita però ha un look giovanile quindi è giovane ed è il messaggio che vogliono dare al pubblico quando indicano l'età lo fanno con Austin Theory o con le ragazze di nxt che dicono ah questa è campionessa e c'ha solo 21 anni ma se ci fate caso quando si sale lì o si passa agli holofamer quindi re misterio holofamer ma non si dice l'età oppure si fa assolutamente silenzio così vi ho svelato anche un piccolo dietro le quinte ma ora Bracchias andiamo a questo questo messaggio tu come la vedi? ma guarda io vado alla ciccia nel senso che non mi pongo troppo troppi problemi sull'età eh degli atleti chiaramente a meno che l'età non diventa un problema visibile e ad esempio ti faccio l'esempio degli ultimi match di Undertaker dove era evidente che comunque l'età insomma iniziava a farsi sentire in modo preponderante per me che l'atleta abbia 25 anni o ne abbia 45 ed è fresco corre veloce e tonico per me che sono un consumatore del prodotto diciamo wrestling diciamo non ci penso troppo e non penso neanche troppo al fatto ah Ellen Knight ha 41 anni quanti regni titolati può fare quanti anni può stare al top non ci penso mi godo lo spettacolo che siano zero regni un regno due regni quello che siano quindi va bene così non 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 mi ci fisso troppo ecco sì in chat ho letto delle opinioni molto allineate con la tua infatti le ho profilate quello che importa è che il lottatore sia capace che faccia bene che diverta che emozioni che in qualche modo risulti ricordabile in quella che è la sua specialità un bel match una cosa che fa ridere una cosa carina divertente carisma trasporto voglia di fischiarlo perché serve anche quello allora qualche altra domandina allora abbiamo alcune cose su Cody Rhodes sarà Cody a battere Roman o uno della Bloodline ci chiede Manuel e ci aggiungiamo anche un'altra di Toto che dice ma Cody cosa farà non parteciperà al Money in the Bank per via della faida con Brock e se non partecipa e non vince la valigetta beh chiaramente le possibilità di sfidare Roman Reigns nel breve periodo si accorciano perché se Triple H dovesse mantenere fede alla separazione dei roster o almeno ad una divisione molto più severa beh i due sarebbero molto lontani almeno sino Survivor Series se proprio vogliamo essere larghi di vedute se no almeno sino la Royal Rumble quindi tu come la vedi su queste due cose che abbiamo profilato guarda ti dico la mia la mia il mio feeling io credo che Cody al momento e anche nel medio termine sarà lontano da Roman Reigns per il semplice fatto che per quanto riguarda il Money in the Bank sostanzialmente per i match di qualificazione che sono stati preannunciati c'è soltanto uno slot libero ovvero mi pare che Matt Rid debba insomma affrontare qualcuno che deve essere ancora annunciato con la faida di Brock Lesnar dubito che mettano Cody anche in questa diciamo faida per quanto riguarda il Money in the Bank e dubito allo stesso tempo che vadano a dare una seconda Royal Rumble consecutiva a Cody Roots quindi diciamo le chance dal mio punto di vista al momento per vedere eventualmente un Cody Roots contro Roman anche in un'ipotetica Drestelmania sono molto basse chiaramente stiamo speculando a lunghissimo termine possono capitare un sacco di cose in questi 5-6 mesi che devono ancora venire però la mia impressione è sostanzialmente questa io credo che si sia allontanato si sia allontanato diciamo da quella storia e ora inevitabilmente con la faida di Brock che pare che ci debba essere appunto l'atto finale con Brock mi sembra evidente che non possa partecipare a Money in the Bank anche perché qualora questo atto finale debba dovesse appunto accadere credo accada a Money in the Bank presuppongo non credo la portino a lungo a Summerslam non ce ne sarebbe motivo allora hai ragione non ce ne sarebbe motivo i rumors al momento dicono il contrario ovvero che l'atto finale cioè il terzo match probabilmente lo fanno a Summerslam ma i rumors potrebbero sbagliarsi importante sarà capire cosa dice Cody Rhodes questa notte a Rone la puntata americana perché lui la sfida Brock Lesnar l'ha già lanciata però è stato annunciato che parlerà ancora ancora al riguardo della rivalità col sindaco di Stuplex City quindi o propone una stipulazione e lancia la data che può essere Money in the Bank e quindi Europa o Summerslam oppure oltre a questo o con una variante di questo può anche dire ok ti sfido a Summerslam e intanto provo a entrare nel Money in the Bank perché tu non ti farai vivo prima di allora e quindi cerco di vincere anche la valigetta e quindi nel caso sarebbe l'ennesimo eroismo di Cody che fa non solo due match ma magari c'è rimanzia di arrotelle al Money in the Bank match esatto guarisce in maniera miracolosa tipo sgorga l'acqua magica dalle pareti di casa sua il braccio si riossifica e va a vincere la valigetta e poi combatte contro Brock Lesnar nel premium live event successivo forte anche della valigetta chissà se seguiranno questa strada francamente sembrerebbe un po' troppo ma con Cody Rhodes l'esagerazione del comparto creativo e quindi del booking è sempre dietro l'angolo non c'è nessuno della bloodline nel Money in the Bank o sbaglio? no non c'è nessuno Mick perché come ti dicevo mi sto guardando sull'altro monitor praticamente i match di qualificazione sono tutti già annunciati ripeto c'è solo un posto disponibile con Matt quindi al momento sembra così poi hanno sempre la carta che magari ne infortunano uno poco prima e c'è il rimpiazzo quello c'è sempre dietro all'angolo però al momento non c'è sì e ricordiamoci anche che un certo Austin Theory vinse il Money in the Bank senza essersi qualificato oppure ho un po' di confusione no non credo cioè venne inserito così d'ufficio perché sì e lì tutti a dire vabbè allora vince lui ma che frega cioè ci stanno a pigliare in giro però sarebbe stato bello non trovi Jimmy Uso visto che è lui che guida la rivolta Jimmy Uso che protesta e entra nel Money in the Bank ovviamente non accade perché probabilmente si andrà verso una sfida a fazioni no Jimmy Uso contro Roman e solo Sicoa però sarebbe stato bello vedere Jimmy nel match magari ostacolato da solo Sicoa mandato da Roman Reigns certo sarebbe stato un interludio alla sfida tra Tech Team però su Jimmy in tanti magari ci avrebbero investito cioè Jimmy poteva essere un candidato del pubblico per dire vediamo che succede se gli mettono in mano la valigetta sarebbe stato uno scenario bello anche se poi non l'avesse vinta però da fantasticare molto più del fantasticare su Butch Baron Corbin e Shinzuke Nakamura detto con tutto il rispetto sì assolutamente ma questi pay per view come appunto Money in the Bank o la Chamber o la Royal Rumble in questo contesto la storia di Roman si presterebbero molto bene a dei arti narrativi veramente rilevanti ma in tutto questo adesso notavo perché mi si era accesa la lampadina ma Money in the Bank dell'anno scorso i match e il ladder match erano a più uomini di quanti ne siano stati già annunciati adesso quindi non è escluso che possano aggiungerci qualcun altro eh beh io ricordo degli anni che forse erano anche in sette o in otto può essere cioè voi aiutatemi con la memoria però io sto leggendo Money in the Bank 2022 quello in cui Tiori vinse e ne erano otto in totale eh vedi diciamo o ad ora ne siamo sei quindi c'è comunque un punto interrogativo anche perché manca un bel po' quindi è un attimo allargare i cordoni della borsa e dire beh dentro anche Codi facciamo un altro match di qualificazione dentro o qualcun altro e via dicendo eh c'è il pericolo che ha WB canne il finale della storia della Broadline boh dipende qual è questo finale hanno già avuto tre occasioni per scriverne uno che sarebbe comunque stato soddisfacente vediamo certo eh il fan di Sami Zayn troverà ogni finale proposto meno intrigante di quello del suo eroe che vince nella sua nazione idem chi voleva Cody Rhodes vincere nel nome del padre quindi vai a capire chissà cosa hanno in mente cioè chissà come vogliono concludere questa grande epopea che sembra un po' un cera una volta in America no? per chi ama i film sembra proprio una storia generazionale però vediamo chissà magari partecipa più gente perché no perché no allora un paio di domandine veloci che abbiamo qua i Good Brothers tra i peggiori del 2023 chiede Francesco io li avrei inseriti nel tuo video dei peggiori perché tu avevi grandi aspettative io invece le avevo proprio basse 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 probabilmente non li ho messi lì dentro proprio perché partivano raso terra nel mio ranking mentale non che siano scarsi è sempre una grandissima squadra però non hanno quasi più niente da dire in WWE hanno perso con tutti i top fanno giusto da spalla dei gestice sembrano lì come garanzia perché nei live event comunque loro lo sanno fare sono coinvolgenti hanno delle buone mosse lavorano in maniera safe quindi sicura tranquilla però io in generale non mi aspettavo tanto da loro e lo sì ne parlavamo con parrucco di recente cioè lo sì a meno che gestiles non diventi malvagio o a meno che gestiles non entri in rivalità con un gruppo come la Itaro che ha sia uomini che donne beh lo sì al momento non serve ad un gran che avevano un nesso per affrontare il judgment day però ora a che servono cioè sono più un ancora che trascina l'immagine di gestiles verso il basso che è un aiuto o un trampolino per proiettarlo ad un piano superiore tant'è che in tutta la corsa al match per il titolo in Arabia Saudita lo sì si è vista quando gestiles ha vinto il tabellone di smackdown e sono usciti a festeggiarlo cioè poi non hanno mai lasciato un segno non l'hanno nemmeno spalleggiato quando è stato intervistato da Grayson Waller quindi io sullo sì in generale sono molto scettico a meno che non si realizzi uno degli scenari che ho detto tu sei più ottimista su di loro? no Mick sono pessimista come te diciamo mi ha mi ha anche stupito il loro reintegro perché appunto insomma come hai detto tu a mio giudizio non hanno null'altro da dire se non nel fatto che vivono un po' di luce riflessa per EJ anche in virtù diciamo di nuove promozioni nuove superstar che hanno intenzione di lanciare quindi sono abbastanza pessimista in merito beh sono quelle squadre che vanno bene che vanno bene proprio per per i live event perché lì possono esaltarsi possono lottare senza dove stare sui tempi televisivi possono mostrare il loro repertorio però ormai sono in una scala gerarchica molto bassa colpa anche questo sì del fatto che non c'erano per un bel po' e poi del fatto che arrivare ad avere l'accessibilità ad un match titolato in quella divisione negli ultimi anni è stato comunque complicato e restando nei tag team cosa ne pensi dei Creed Brothers il singolo e anche in coppia visto che qua si parla di Julius anche come come atleta singolo ma guarda micca alla fine diciamo i Creed Brothers li davano anche come potenziali promossi nel draft io credo che sia io credo che sia un tag team valido diciamo vado sempre in ogni caso con i Fed di Piombo quando si parla diciamo di promozioni dal roster dello sviluppo giovanile perché poi non è detto che abbiano una riuscita e ci sono svariati esempi anche relativamente recenti ancora di più quando si parla di separare diciamo un tag team perché lì il rischio di una non riuscita comunque è è realistico diciamo insomma può accadere diciamo per il momento come profit i street profits nel caso inizierei a capire come si muovono nel main roster in termini di risposta da parte del pubblico in coppia poi dopo si può pensare di fare qualche altro ragionamento beh in generale sono un'ottima squadra hanno fatto dei match superlativi a NXT io mi sono comprato anche le loro trading card firmate quelle da rookie sperando che prima o poi sfondino però NXT rimane per me un calderone irrisolvibile pensate anche a Lash Legend o Lash Legend la pronuncia un po' un ibrido tra la e la e che è sparita poi improvvisamente diventa alleata di Noam Dar ed è importante oppure ad Oro Mensa proposto con anche i promo su Oro Mensa spacco di qui di là sparito dopo due settimane adesso arriva e anche lui diventa comunque un personaggio on screen che può fare qualcosa pensate all'hype che c'era su Roxanne Perez o su altre ragazze come Cora Jade ah il futuro la nuova Sasha Banks mi ricorda di qui di là sei mesi il paracadute si è aperto e sono molto lontane anche solo dal poter avere un accostamento a questi mostri sacri che sono stati nominati cioè a NXT c'è uno strano rigiro di personaggi eccetera che non ti fa capire se poi c'è una vera possibilità ai piani alti entrambi Creed Brothers sono atleti straordinari ma se dovesse ad esempio arrivare in WWE un olimpionico e uno ce l'hanno e loro vengono presentati per ora come i geni del wrestling universitario arrivano dalla Diamond Mine quindi rischiano l'effetto Sonia Deville che a un certo punto si trova a Ronda Rousey nel roster e il suo personaggio è lo stesso solo con meno credenziali quindi possono fare tanto però al momento a parte i litigi le incomprensioni con Ivy Nile che cerca di rimetterli assieme ricreare l'armonia oppure con Julius che va a soccorrerla e così i due perdono il match e litigano cioè però non li stanno inserendo in situazioni utili per fare esperienza in un ambito diverso da quello che è sempre lo stesso ed è la stessa carenza che era avviso ad esempio per Brom Breaker e per altri la stessa problematica che siano buoni o cattivi nel caso di Breaker fanno sempre la stessa cosa e dicono sempre le stesse cose e combattono praticamente sempre alla stessa maniera a NXT non c'è per me lo ribadisco un buon lavoro da quel punto di vista ho letto e ho tradotto le ho messe nelle news di oggi le dichiarazioni di Sami Zayn su NXT intanto è vero c'è anche Jackara Jackson che dal nulla arriva a fare la la coportavoce del gruppo chiamiamola così allora dicevo ho letto e tradotto le dichiarazioni di Sami Zayn al podcast di Corey Graves sull'NXT di Sami Zayn quando c'era lui lì nello show dei giovani e Sami dice era una cosa folle cioè lui sembra perché hanno sentito il tono di voce sembra metterlo in tono anche un po' negativo perché racconta che l'ambiente era se sei qui devi essere incazzato devi essere affamato se sei qui deve venirti voglia di andare via da qui per arrivare nei roster principali se sei qui deve venirti voglia di partecipare a Raw e a Smackdown perché fanno i tour e c'è un contatto con un pubblico più numeroso e diverso se sei qui deve venirti il desiderio di diventare il nuovo John Cena se tu sei qui non senti di poter diventare John Cena non hai questa voglia non culli questo sogno stai perdendo tempo vai via non servi a niente e lo trovo un discorso che può causare una grande pressione psicologica e quindi è anche a rischio di sanità mentale per certi versi però gli dicevano tu sei in concorrenza con tutti gli altri è una gara se non prendi tu la mela la guanta un altro quindi devi sbatterti devi andartene da qua devi andare a diventare il nuovo John Cena ecco io in questo nuovo NXT dove sono tutti amici si fanno le foto ci sono le tabolate c'è il dirigente di turno che posa col campione siamo tutti amici e facciamo le foto sui social col culo di fuori io questo clima non lo vedo e paradossalmente per come lo racconta Sami Zayn non ci sono stato ma un po' mi sento quasi di rimpiangerlo non portandolo agli estremi che possono essere pericolosi ma perché c'era evidentemente un desiderio un'ambizione che francamente ora dall'NXT che mi propongono io non riesco a sentire non riesco ad accorgermene mi sembra che l'NXT di adesso sia beh dai uscite fate un po' di mosse più ne fate più il pubblico è contento ne fate uno o due un po' pericolose o saltando dalle corde sono tutti gasati e prima mi sembrava che ci fosse un cuore differente il we are NXT non era il we are NXT di adesso io ho ho questa ho questa roba qua dentro e quindi ve la dico e mi sono piaciute le parole di Samy Zane perché io se dovessi avere una palestra ma ve l'ho detto anche qui tante volte cioè se dovessi anche essere un atleta cioè è questa la filosofia quando si parlava di chi non voleva perdere magari c'è ancora il dottore in chat di Sasha Banks vedi qua di su fai capricci quello che volete non sappiamo poi se sono veri o no ma io cosa vi ho detto sempre è giusto quando tu hai un ruolo e hai faticato tanto e ci tieni e ritieni di essere bravo lo difendi fino allo stremo perché amici amici però alla fine siamo in competizione è quello lo spirito ovviamente siamo in competizione leale non ti faccio degli sgambetti non ti pugnalo alle spalle a livello politico o a livello umano ma siamo in competizione io se sono lì voglio diventare immortale devo diventare immortale devo sentire il desiderio di essere il numero uno oggi i match di NXT mi sembrano tutti fotocopia gli NXT iniziali quelli che commentavo dove c'erano atleti e stavo a Sky apposta l'avevo chiesto io da commentare invece malgrado ci fossero atleti molto meno bravi c'era Emma che inciampava entrando nel quadrato e poi ne hanno fatto praticamente un personaggio comunque vedevi quella voglia di superare i propri limiti di fare qualcosa di nuovo di cercare una strada diversa da quella degli altri adesso la strada di tutti salvo rarissime eccezioni è identica è uguale fanno tutti la stessa cosa ma Mic diciamo non ho roba da controbattere perché la penso in ugual modo io fossi un wrestler e NXT l'approccierei nel modo in cui se mi l'ha descritta come come filosofia come diciamo obiettivo a a breve medio lungo termine quello che sia quindi sottoscrivo completamente e poi per questo motivo non riesco a fare un'analisi reale sulla quasi totalità degli atleti che sono lì perché se andiamo a vedere soltanto le capacità tecnico-atletiche che hanno mostrato i Creed Brothers dovrebbero essere clamorosi però a Royal SmackDown questo serve sino a un certo punto il New Day è diventato stracampione suonando il trombone entrando ballando inventandosi il cereale culone gli Usos sono diventati importanti per le varie storie che hanno avuto ma sono sempre stati visti come degli outsider che però grazie alla storia bella sapendo anche parlare e grazie a delle casualità e a delle necessità ora vengono percepiti anche come degli ottimi wrestler singoli quindi vai a capire cosa può accadere ai Creed Brothers tutto e niente come per tutti i nuovi promossi io ho detto che quella che ha la maggiore futuribilità in questa infornata del draft è Zoe Stark ma basta un niente per farla decrescere e arrivare in fondo alla lista hanno promosso Ailadone Alba Fire non l'abbiamo praticamente viste Katana Shens Caden Carter dove sono Cameron Grimes vince dei match e poi non viene remunerato con l'ingresso degli incontri di qualificazione al Money in the Bank anche JD McDonough che sta facendo la rivalità con Dolph Ziggler che purtroppo nelle puntate internazionali viene tagliata quindi chi va su chi scende chi ce la farà non hai delle sicurezze invece ai tempi dell'NXT di Sami Zayn riuscivi a capirlo perché gli atleti erano profilati anche con le storie in modo tale che comprendevi quanto potessero dare in più a Raw o a SmackDown adesso non lo sai bene perché sono quasi tutti chiusi nella prigione di un personaggio molto accennato che fa sempre la stessa cosa sempre e sono quasi tutti identici tra l'altro che differenza c'è tra Bo e Ilya Dragunov e uno dei fratelli Creed come impostazione del match non ce n'è fanno la stessa cosa perché scegliere uno o l'altro non ho un criterio che mi fa scegliere uno o l'altro perché non so cosa sanno fare di diverso l'uno dall'altro non ho idea magari uno è più portato a fare match hardcore e Julius Creed di meno ma non lo so non lo so sanno interagire sanno parlare sanno fare delle scenette comiche divertenti cioè paradossalmente quello che faceva lo sveglione del The Way Austin Theory dimostrando questa duttilità espansiva adesso è campione e ci stanno puntando da tempo cioè quello che ha fatto a NXT durante in prossimità di un certo passaggio di consegne paradossalmente ha fatto molta più strada di chi ha disputato super match cose clamorose tesis NXT e poi è ancora lì che aspetta la sua chance va bene cambiamo cambiamo allora che fine ha fatto il lottatore simile indiano che richiamava il personaggio di Umaga o è solo Sikoa e quindi fa parte della bloodline oppure è Virman che è all'interno degli Indus Share che sono stati appena promossi anche loro da NXT ai roster principali e sono all'interno di Raw Lessie Evans hai perso anche tu ogni speranza sì Mick ce l'ho persa ti dico la verità io ti dico ancora non riesco a spiegarvi e qui ti parlo di boh saranno passati un paio di anni fa ti ricordi quando la stavano proponendo con i video come la ragazza appunto patriottica ma anche madre che si fa in quattro per la famiglia per la patria quindi poi quando entrò in scena anche con il gore in gattire l'era percepita da face cioè tutti la tutti aveva un discreto seguito di persone che insomma l'applaudiva eccetera eccetera poi da un momento ad un altro con la stessa gimmick con la stessa gimmick e ipotetic quindi ipoteticamente con gli stessi valori all'improvviso il a caso da lì dissi questa cosa che ancora tutt'oggi non riesco a spiegarmi ma poi è proprio io ormai la etichetto come un vorrei ma non posso ci provano un mese cancellano e non la vedi per sei mesi ci riprovano per un altro paio di settimane cancellata e non la rivedi per altri cinque mesi ora ci stanno riprovando tra l'altro con un ring attire molto simile al precedente una gimmick molto simile alla precedente salvo appunto per questi valori della famiglia o della mamma che si fa in quattro che non appare più avendogli dato una connotazione da il diciamo non mi sembra un personaggio innovativo rispetto a quello che aveva precedentemente ma il problema principale di Lesi al di là della narrativa è stata la continuità negli ultimi anni non ho avuto continuità di esibizione di rendimento di faide di niente e al momento sono molto pessimista nonostante ritengo che possa comunque levarsi delle soddisfazioni nei main roster possa andare a costruire qualcosa di interessante anche dal punto di vista narrativo certo non stiamo parlando di una Charlotte di una Becky credo che non lo sarà mai a quei livelli però diciamo ti levi anche la possibilità di avere un buon mid card un buon mid upper card Alessi Evans secondo me ha tanti fattori che potrebbero funzionare in WWE oltre al fisico e alla presenza scenica abbiamo già parlato della gravidanza che gli ha fatto perdere delle possibilità importanti però in generale magari la verità verrà fuori fra qualche anno perché è strano che non abbiano voluto o desiderato esplorare di più quello che potrebbe fare tra l'altro negli ultimi due giorni anzi nell'ultimo giorno ha pesantemente litigato sui social con la figlia di Sergent Slaughter e ha coinvolto anche l'Holo Famer ve ne ho dato notizia nel video che ho pubblicato oggi sul TG WWE sul canale Wrestling News e Rumors su YouTube e praticamente è molto più interessante quella vicenda lì di tutta la narrativa di Leslie Evans degli ultimi due anni cioè lei che litiga con la figlia di Sergent Slaughter che non gradisce che Leslie Evans con il costume a SmackDown ha in qualche modo ricordato il padre oh è più bello della narrativa WWE su Leslie Evans degli ultimi trimestri cioè quindi capite bene che c'è qualcosa che che non funziona bene c'è qualcosa che non va se quella roba lì è migliore di quello che propongono loro chissà magari ha dei problemi fisici o non sta bene o ha fatto incazzare qualcuno come avete scritto in chat magari la sua proposta social per come si pone ha indispettito la dirigenza non vai a sapere allora ti piacerebbe vedere Seth Rollins contro Dominic Mysterio in premium live event a te ma ti dico ti dico la mia verità diciamo non è un match come dire in cima tra quelli che vorrei vedere me lo propongono lo guardo diciamo il problema principale nasce dal fatto che Dominic Mysterio mi sta piacendo insomma nel judgment day credo sia migliorato molto anche in termini di recitazione e abilità al microfono ma in ring a me continua a non convincere ti dico la verità sebbene rispetto a quando era nel tag col padre qualche ulteriore miglioramento l'ha fatto però in ring a me non piace affatto lo trovo ancora molto molto grizzo talvolta anche un po' insicuro allora io lo vedrei questo match semplicemente se dovessero esserci delle condizioni particolari intanto J. David grazie per i 100 bits che ci hai regalato thank you grazie mille ad esempio se Seth Rollins avendo già confitto magari Damien Priest e Finn Balor dovesse alzare un po' la cresta e accettare di combattere contro Dominic magari con una stipulazione che lo sfavorisce e questo potrebbe dare un po' di pepe alla battaglia perché Dominic in questo momento lo stanno usando per contrapporlo ad atleti che hanno bisogno di essere tifati l'hanno messo in rivalità anche breve con lottatori che volevano insomma testare col pubblico quindi con Seth Rollins non hai questa necessità e allora se vuoi creare un match competitivo perché Dominic per adesso viene proposto come uno che non lo è e che deve nascondersi dietro la gonna e i muscoli di Ria Ripley allora in questo caso devono trovare una stipulazione che sembri avvantaggiarlo quindi vedrei volentieri questo match ma solo in questa in quest'ottica in questa filosofia in questo istante ovviamente allora non trovi che il titolo intercontinentale sia una prigione dorata per Günther che ovviamente non sarà o non dovrebbe essere nel Money in the Bank ladder match ma allora per quello che per come è stato costruito Günther e per quello che ha dimostrato specialmente in ring io credo che al momento non possa ricoprire una posizione migliore considerando anche la collocazione dei titoli massimi il problema è e questo diciamo è una mia come dire è un timore che si stia andando su una direzione sul titolo intercontinentale simile a quella di Roman cioè nel creare un super campione molto duraturo chiaramente questa cosa se da un punto di vista ha un qualcosa che magari può essere intrigante affascinante dall'altra parte la federazione in un certo senso si mette anche un po' in difficoltà perché in un modo o nell'altro dovrai farlo perdere ed è noto che questo titolo intercontinentale non per quanto Hunter lo abbia analzato non sia a livello dei titoli massimi diciamo così e questo secondo me diventerà un problema perché tolti super top sarà un problema questa cosa però sappiamo che la WWE trova o un usato sicuro o un nome già noto o una stipulazione particolare può avviare a questo problema però a me sembra evidente che si sta andando a costruire un personaggio alla Roma Reigns beh noi ne abbiamo già parlato WB sta cercando di svecchiare alcuni record quindi Günther viene proposto come il campione intercontinentale più longevo dell'epoca moderna e vi dico la verità io non sono tanto d'accordo con la sioma con il teorema della prigione dorata cioè Günther è Günther perché è campione intercontinentale da così tanto tempo cioè Günther è diventato Günther perché è imbattibile perché nel ring lotta bene disputa bei match batte i big della federazione come Shemus e Drew McIntyre e quindi è tale a questa immagine proprio perché si associa ad una cintura rilanciata come pregio prestigio e come desiderabilità quindi io non vedo in questo una prigione dorata lo vedo come il modo per rendere Günther un perno possibile per il futuro un titolo detenuto due mesi e mezzo o tre o quattro che è quello che bene o male vogliono i fan oggi con successiva sconfitta contro il Kevin Owens di turno mettiamo un nome alto amato dai tifosi non li avrebbe fatto per nulla bene perché in quanti hanno avuto regni di questo tipo ma nel momento in cui sei il campione intercontinentale più longevo dell'epoca moderna hai quei risultati che ti ho detto che fanno curriculum vieni speso nel Royal Rumble match per come l'hanno scritto ecco che diventi Günther cioè ecco che diventi un top player la cintura lì non è una prigione nella mia visione è una necessità anzi benvenga perché la cintura viene ristabilita come un qualcosa che viene si creata come appunto prestigio dal campione ma anche come un oggetto che in futuro chi ce l'avrà addosso almeno per un po' vivrà in parte di questa luce riflessa allora andiamo avanti il Ferrax oh mamma cosa sei andato a ripescare era un video di tanti anni fa questo credo che parlasse del wrestling come dell'oppio degli sfigati o delle giovani generazioni adesso mi ricordo talmente poco di questo video che probabilmente cercava anche di sfruttare l'onda emotiva delle proteste e ti fa capire quanto poco abbia avuto di significato a medio o lungo termine tra l'altro l'ho incontrato se non ricordo male del limello a Pescara a Pescara Comics l'anno scorso ci ho fatto anche un viaggio sul sul pulmino che faceva i transfer era molto gentile alla mano io credo che magari sbaglio però il suo personaggio ai tempi fosse un po' il polemista e che i flame fossero anche utili per creare movimentazione numerica sui suoi video quindi quello che ha detto lascia il tempo che trova da uno a cui piace il wrestling dovrebbe continuare a piacere indipendentemente dall'opinione anche se ragionata di chiunque altro almeno mi pare che ci fosse anche lui a quella fiera lì o se lo sto confondendo con altri comunque in generale il e quel video non me lo ricordo quasi più quindi non è che che avesse chissà quale rilevanza allora dopo tutta questa situazione di indecisione J.Uso chi sceglierà tornerà tra le fila se rimetterà in riga come dice Roma Rens oppure sceglierà il fratello ma diciamo che se prima durante il pay per view poteva avere un dubbio adesso che ha visto che solo ha fatto questa finta diciamo così credo che le probabilità che J.U. unisca a Jimmy siano sempre più più quotate siano sempre più elevate tra l'altro lo dicevamo prima probabilmente hanno in mente di fare un match nel prossimo pay per view tra J.U. Sos e Solo e Roman la direzione almeno al momento potrebbe sembrare questa la più percorribile con più probabilità io dico J.U. con Jimmy assolutamente ok allora assicuratore di Twitch ti sto ignorando perché ci sono degli evidenti problemi sul sito WB cioè mi hai costretto ad andare a vedere ed effettivamente nella pagina del roster al momento stanno indicando Kevin Owens e Sammy Zane come campioni tech team di SmackDown però se clicchi ti esce che Kevin Owens è in possesso di ambedue le cinture tech team di Raw quindi c'è qualche problema tecnico chiaro così come di recente l'hanno avuto nell'indicare in una grafica quella tra Lacey Evans e Zelina Vega al posto di Zelina Vega Asuka e anche su questo ve l'ho documentato su YouTube quindi se non ti sto dando peso non è che ce l'ho con te o ti ignoro ma evidentemente potrebbe trattarsi anche di un errore del sito stesso ripeto non credo che Kevin Owens abbia ambedue le cinture di di Raw in suo possesso e addirittura Sammy Zane se clicchi andiamo a vedere se Sammy Zane cosa esce magari a lui danno entrambe quelle di Smackdown però ecco lo sto accantonando per questa roba qua torniamo a Jey Uso quindi Jey Uso dicevi tu come lo vedi da che parte? dalla parte di Jimmy eh dai è quella più facile da pronosticare eh per quell'idea a squadra di cui parlavamo prima un Jey contro Jimmy sono curioso lo guardereste volentieri oppure visto che sono gemelli praticamente poco distinguibili tutto sommato anche visivamente non non sareste tanto interessati cosa ne dite? ma guarda ti dico Mick io con la faida della scusami con la storia della Blood l'hanno imparato a distinguerli quindi mi è servito anche per questo tra l'altro mi ha detto non so che anche tu abbia notato diciamo la corporatura di Jimmy è anche un po' cambiata quindi quello è sicuramente un altro fattore di differenza tra i due diciamo per quanto riguarda questa faida qui il Jey contro Jimmy beh dipende alla fine dell'arco narrativo al momento ti direi no perché ripeto la strada mi sembra abbastanza spianata però non so mai cosa possono creare intanto sono andato a vedere sul sito WWE Samy Zane ha il titolo di Smackdown e il titolo di Raw Tech Team mentre a Kevin Owens vengono attribuiti due titoli Tech Team di Raw insieme contemporaneamente quindi c'è qualche problema tecnico sicuramente sul sito WWE per ora non prendetelo come il Vangelo eh � Vangelo Vangelo Dio Vangelo Di USA Grazie a tutti